Cosa è co... Eh vabbè ma non muore No dai 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 Attento 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 Eh no dai non va mica bene così che ti curi Ce la si può fare ce la... Attento non andare lì, non andare lì, non la trappa, non la trappa L'hai ucciso? Ahhhh grandissima Bella Clippa ti prego Bella Si clippa si clippa Ah vero Occhio dietro occhio dietro occhio dietro Oh Ahahahah God oh pig Ne vale la pena Bella Bella Bella